ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio di campagna l'italiana oggi siamo qui con il quinto episodio e sono qui con i miei due aiutanti francesco farm 98 e ale scusate un attimo perché non mi ricordo benissimo il nickname e alessandro no scusate ecco ho fatto già confusione alessandro 98 e francesco farm so i nomi veri ma preferisco dire nick casomai non vogliano essere nominati quindi meglio così allora vi dico subito cosa andremo a fare oggi come potete vedere non è cambiato molto da come ci eravamo lasciati perché purtroppo non sono riuscito ad andare avanti col lavoro ho fatto giusto 5 6 passate qua niente di più e ora francesco i miei due diciamo operai tra virgolette sono a trebiare ok intanto si stanno mettendo d'accordo qua alessandro e francesco appunto sono stando trebiando e io sto finendo qua di erpicare questo campo qualche parte abbiato una scorsa puntata e molti di voi c'è molti tre o quattro di voi mi hanno detto questa paglia qui appunto se che mi conveniva venderla in modo da ricavare qualcosa anche dalla paglia però come ho risposto purtroppo i cari autocaricanti o anche magari la class la 980 con il pick up costicchiano meno un poco e quindi per il momento dovremmo rinunciare alla paglia quantomeno per adesso non abbiamo molti soldi dopo vedrete che si farà un po tutto e non si sprecherà un bel niente adesso un attimo che rispondo ad ale ok stavo dicendo della paglia si vedrete che riusciremo andare a trarre profitto anche dalla paglia e ringrazio subito ale e francesco per l'aiuto che mi stanno dando spero che entri qualcun altro ma non sono molto fiducioso perché ho visto che alcuni hanno riscontrato problemi con le mod per entrare in partita e mi dicono che non riescono ad entrare, questo semplicemente perché probabilmente hanno scaricato la versione sbagliata, se volete partecipare ragazzi dovete scaricare l'ultima versione di quella mod e la versione non more realistic, per esempio se c'è la versione 1.1 e la versione 1.2 more realistic voi dovrete scaricare la 1.1 perché la 1.2 è more realistic e quindi non va bene, spero di essere stato chiaro. Ringrazio anche ancora una volta i presenti nella scorsa puntata che erano Matteo, Michele e Manventi e nient'altro spero che riuscirete molto a scaricare tutte le modi e a poter partecipare e non essere solo in 3, ma lo siamo adesso, spero che arrivi qualcun altro ma non lo so, vedremo. Adesso cosa sto facendo? Stavo parlando, mi sono perso via. Come sto dicendo l'oro trebbiano, io vado avanti qui dopo magari ci daremo il cambio e come potete vedere sta anche venendo sera perché praticamente sto mandando avanti il tempo al massimo, non con lo script ovviamente ma con il tempo normale al gioco perché stiamo aspettando che arrivi finalmente una buona offerta per vendere ciò che abbiamo raccolto e ciò che abbiamo in casa diciamo dall'inizio da cui potremmo prendere un po' di soldini e iniziare finalmente a usare anche le multe. e devo dire anche che sono contento del riscontro che sta avendo la serie, molti mi dicono che gli piace, che vogliono partecipare e sono molto contento di questo, quindi ragazzi fatevi avanti, se volete divertirvi io vi aspetto, sono qui, la serie continuerà, siccome tanti voi mi chiedono se continuerà o meno, si vi confermo subito che la serie continuerà, ok ora ho finito questo campo posso già iniziare anche questo, intanto qua mi dicono che appassisce tutto ma se non sbaglio nella land non dovrebbe appassire niente, probabilmente si sta sbagliando o spero di non sbagliarmi io perché sennò qua c'è un casino, un attimo che rispondo, ok scusate, si sto andando avanti per rispettare qualche buona offerta e ora accenderò anche i fari, altrimenti qua finiamo giù nel dilupo e niente altro ho detto tutto, un'altra cosa del pack delle mod che ho messo, mi sono accorto, meglio se a zero il tempo allora, meglio qua cambiare perché altrimenti succede un finimondo, se mi si appassisce tutto, ok possiamo riprendere, niente, allora finiremo di tribulare quel che c'è e le offerte arriveranno a tempo debito, vi sto dicendo, ah si del pack, ah si ok scusate ho perso un attimo il filo, nel pack c'è stato un inconveniente, nel senso che per colpa mia, si ovviamente, nel pack praticamente non c'è il layer limiter, che è praticamente quello che vi consente di regolare la velocità in base a quello che volete, però se possiamo considerare quando andremo ad utilizzare le mod, la maggior parte delle mod, come le trebbie, le trince e anche il trattore di ago ce l'hanno tutti di serie diciamo, quindi questo qua non è il problema principale, un problemino forse che potrebbe dare più fastidio è questo, il seguente, che me l'ha fatto notare Federico e non solo nella pagina Facebook, intanto qua ho orato metà, ho erpicato metà stradella, mazze miei, mi ha fatto notare Federico nella pagina Facebook perché praticamente mi ha detto che Luxerion 5000 ha dato problemi già in altre partite, in molti dicono che faccia sparire il mod, io non l'ho mai trovato, però seguirò il suo consiglio, quindi non lo tolgo dalla serie perché ormai dentro poi se non succedono casini, però penso che non lo acquisterò in modo da non creare questi problemi e quindi su questo fronte dovremmo essere a posto. poi cosa devo dirvi, ah, che questa settimana probabilmente saranno usciti, perché adesso non so quando caricherò il video, saranno usciti un po', e usciranno un po' di video perché mi sono un attimo portato avanti, saranno molto consigliate e questo episodio della serie e anche le speed art di alcuni loghi e sfondi desktop e altre cose che dovevo fare da un po' e sono quasi verso la fine, le quasi fine di tutti, quindi ragazzi questo è anche un modo per tranquillizzarvi, quelli che stanno aspettando i miei lavori, scusatemi, come sapete sono super preso e a breve vi arriveranno tutti. intanto dai chiedo di fare cambio, chiedo un attimo il cambio in modo da variare un attimino e non fare tutta la puntata e replicare, altrimenti, ah, vero qua c'è, che cazzo, cosa mi ero dimenticato, non avevamo finito di seminare questo campo, infatti qua è già cresciuto tutto, va bene, pazienza, finiremo dopo questo. intanto vado avanti qua io, vi sto leggendo, si state tranquilli per i lavori grafici, vi arriverà tutto ragazzi, non preoccupatevi, e intanto vado dai aspetto che si riempia Francesco. oh cazzarola, probabilmente Alessandro ha avuto un problema, vedo che è uscito qua, va bene dai continuiamo io Francesco dai, non ho problema. da voi grafici state tranquilli che arriveranno, e ve li farò avere per tempo, scusatemi il ritardo, ma come sapete sono super preso. un'altra cosa, quello che faremo oggi, ve l'ho già detto, lo stiamo facendo, dopo quando saluterò tra poco, vi andremo avanti noi, o se no io, o qualcuno che mi dà una mano in settimana, perché proprio ve l'ho detto, siamo un po' senza personale, per via delle mod, non scaricate, e quei problemi che rispondono gli altri utenti. però vi dico subito che nella prossima puntata, andremo a comprare una mod, o anche due, in base ai soldi che avremo, intanto vado a vedere, ecco, le grandi, ecco, tra 10 e 11 ore, arrivano le richieste, quindi, all'esqua, ah ok, sta rientrando Alessandro, e abbiamo le richieste in arrivo, quindi, prossima puntata, vi prometto ragazzi, che si inizia con le mod, definitivamente, andremo, finiamo qui, e poi andremo a vendere, appena arrivano le richieste, andremo a vendere tutto quello che possiamo vendere, faremo su eBay soldini, e poi faremo le prime, le prime acquisti di mod, sicuramente, credo che il primo, primissimo acquisto, sarà l'asseminatrice, perché qui, ce n'è bisogno alla grande, e, intanto, vedete qua, se Francesco, da che parte va, che ha mostrato lo svolto, ok, ma no, va di là, eh, si deve che non sarà pieno, vabbè, intanto, mi sistemo qua un attimo ancora, e, andremo a comprare sicuramente la seminatrice, come primo acquisto, perché ragazzi, ce n'è bisogno, cioè, guardate qua, che seminatrice abbiamo, per di così tanti campi, magari questa la terremo, e ne compreremo, giusto un'altra, per fare anche prima, quando ci sarà più personale, e, la seconda, secondo acquisto, la moda che prenderemo, non so ancora, in base ai soldi che avremo, andremo ad acquistarla, e, ora dai, vi saluto, sta entrando Francesco, ma, è inutile, diciamo, perché sto per salutare, e, ora vi saluto, perché, sono qua, giusto, un attimino di fretta, perché, devo andare via, e poi, non c'è il personale, quindi, far molto in questa puntata, è stata un po' dura, ringrazio, comunque, Francesco ed Alessandro, per l'aiuto, e li aspetto calorosamente, per una prossima puntata, e, che altro dire, vi ringrazio anche a voi, ragazzi, che continuate a seguire la serie, e, e, nient'altro, vi, vi faccio salutare dagli altri, ho fatto la vaccina triste, perché, dispiace anche a me, è una puntata un pochino spenta, perché, come vi ho già detto, è stato un po' un casino, con le mode, è poco personale, però, dai, vi saluto, calosamente tutti, vi salutano anche Alessandro e Francesco, e, state sintonizzate, perché i video arrivano, arrivano, e come si arrivano, ciao a tutti, ragazzi, e al prossimo video, ciao, ciao!